Il progetto presentato mira a risolvere il problema dell'esperienza di visita ai musei, alle mostre e agli eventi culturali che spesso risulta poco coinvolgente e poco interattiva per il visitatore. Per cambiare questa prospettiva il team ha sviluppato un sistema di riconoscimento vocale che offre un'esperienza di visita completamente interattiva e coinvolgente. Grazie a questo sistema i visitatori hanno la possibilità di imporre domande direttamente al sistema e ricevere risposte personalizzate fornite da un algoritmo di intelligenza artificiale. L'applicazione consente anche di scannerizzare immagini prese da internet e ripropone l'opera in 3D fornendo informazioni utili alla sua comprensione. In questo modo l'arte diventa accessibile a tutti, ovunque si trovino, promuovendo la cultura e l'educazione artistica in maniera innovativa e coinvolgente. La soluzione adottata è quella di utilizzare la tecnologia per creare un'esperienza di visita più coinvolgente e interattiva e per rendere l'arte e il patrimonio culturale del territorio accessibili a un pubblico più ampio. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!